Se soffri di dolori cronici a nervi o muscoli, avrai sentito parlare della TENS, che potrebbe darti sollievo senza farmaci o dipendenze, ma sarebbe impossibile portare in giro questi dispositivi ingombranti. Ti presentiamo Gymform Back Miracle, l'innovazione più pratica, portatile e tecnologica in grado di eliminare il dolore sciatico all'istante, per farti tornare alla vita di sempre, grazie al potere della stimolazione elettrica nervosa transcutanea o TENS. Basta avvolgere il Back Miracle sotto il ginocchio e accenderlo. La tecnologia TENS emette innocui impulsi elettrici che bloccano il segnale del dolore, che viaggia lungo il nervo sciatico, offrendo un immediato sollievo dal dolore sciatico e lombare e dai disturbi associati. Inoltre, i microimpulsi stimolano i nervi e viaggiano lungo la pelle, producendo endorfine, un antidolorifico naturale che rende Back Miracle due volte più efficace. Back Miracle è dotato di comodi pulsanti di regolazione, in modo da poter controllare l'intensità degli impulsi. Bastano solo pochi secondi per usarlo ed è così discreto che nessuno saprà che lo sta indossando. In poco tempo, sarai in grado di tornare all'attività che ami senza più dolore. Innanzitutto, riduce rapidamente il dolore, ha un effetto analgesico istantaneo su tutta la gamba, il piede e la parte bassa della schiena. La tecnologia TENS funziona emettendo innocui impulsi elettrici che bloccano il segnale del dolore, che viaggia lungo il nervo sciatico, che è la causa dei disturbi. La TENS aiuta ad accelerare il recupero stimolando i muscoli, in modo da permetterne un recupero veloce. Quando il dolore si attenua, il corpo si rilassa, il che riduce la tensione. Inoltre, gli impulsi elettrici sono efficaci quanto gli antiviammatori, ma senza produrre effetti collaterali. Rilassano il sistema nervoso e stimolano la produzione di endorfine. Ti sentirai benissimo e il dolore scomparirà. Perché? Perché la TENS di Gym from Back Miracle ti fornisce benefici sia atopici che su tutto il corpo. E' anche sicuro al 100% per le persone con diabete o artrite. Non hai nulla da perdere, ma da guadagnare, liberandoti del mal di schiena. Acquistalo subito!